Sono giorni sempre più difficili, sono giorni in salita, giorni in cui l'angoscia aumenta e soprattutto aumenta la nostra mancanza di sopportazione. Siamo diventati tutti nervosi, pieni di paura e soprattutto ci continuiamo a chiedere che domani sarà, avremo un domani, al di là della situazione sanitaria che è molto difficile, che cosa accadrà alla nostra economia, cosa accadrà alle nostre famiglie, che tipo di futuro ci riserva una società che si è mostrata solidale fino a un certo punto. Possiamo avere speranza oppure continuiamo a vedere l'ombra della morte che ci ossessiona, come ha detto bene il Vescovo di Bergamo. Insomma, sono momenti di grande apprezzione ma anche di grande riflessione. Non riusciamo più a sorridere, non riusciamo più a divertirci, non riusciamo più a dormire la notte. Il nostro pensiero fisso è questo virus che ha distrutto il nostro modo di vivere e ha distrutto il nostro modo di essere. Siamo effettivamente sempre più preoccupati, sempre più convinti che i tempi si allunghano, che non ce ne usciremo presto, che non possiamo tornare domani a fare quello che facevamo, che forse non ci piaceva tantissimo, che forse non era il massimo di quello che avremmo potuto avere, ma che in qualche modo oggi ci manca. E la domanda che continuiamo a ripeterci è se saremo gli stessi o invece no, se avremo la forza di vincere questo male oscuro che abbiamo dentro, che ci fa deprimere, che ci fa sentire terrorizzati perché non sappiamo che cosa può accadere a noi e ai nostri cari. La paura di tutto quello che non conosciamo che ci arriva anche attraverso la rete. Le notizie false che ingombrano la nostra memoria. Insomma, sembra uno scenario apocalittico, uno scenario a cui non eravamo abituati e che probabilmente non avremmo mai voluto vivere in prima persona. Noi siamo stati fortunati perché non abbiamo vissuto la guerra e le guerre che ancora sono in atto sono talmente lontane che non riusciamo neppure ad immaginarle. Però adesso sappiamo esattamente che cos'è la paura e sappiamo esattamente che cos'è la speranza. La speranza di un domani diverso, la speranza di un domani in cui possiamo ricostruire, la speranza di un domani in cui possiamo ricominciare a vivere secondo quelle che sono le nostre capacità. Speriamo bene, ma è tutto davvero in salita.